Purtroppo, quello che ho detto dopo la partita di Spesja, in questo momento sembra che questa sia la direzione. Perché purtroppo, perché da un mese il giocatore ogni giorno dice che vuole andare. Per te dare un esempio, dopo la partita di Spesja, io ho dato lunedì libero a tutti. Io ho detto che martedì è allenamento opzionale. Io sarò a Trigoria, il mio staff, tutti i staff saremo a Trigoria martedì, però voi giocatori avete l'opzione di venire o di non venire. Tutti i giocatori che erano in panchina a Spesja sono venuti tutti a allenare. Tanti dei giocatori che hanno giocato a Spesja sono venuti o a piscina o a recupero o al dipartamento medico. Sono venuti. Questo è il profilo di giocatore che tu vuoi come allenatore. Quando un giocatore ti dice, non solamente all'allenatore, però principalmente alla società, dice anche ai compagni ogni giorno, però il più importante è che dice alla società, io non voglio giocare nella Roma, io non voglio vestire la maglia della Roma, io non voglio tornare a giocare, io non voglio tornare a allenare con il gruppo. Io devo dire purtroppo, perché la situazione ideale è ovviamente che il giocatore è felice e che lascia gli altri essere felici e seguire la sua strada, la sua direzione. Io ho avuto questa sensazione quando ho detto che mi aspettava Nicolò qua il primo di febbraio e adesso ti dico, purtroppo sembra che è quello che va a succedere. Dopo se tu vuoi sapere dettagli, se tu vuoi sapere quello che ha successo, come ha successo, questo non è per me. Per me è semplicemente dire che una volta in più Nicolò non è a disposizione della squadra, una volta in più il nostro focus è la prossima partita, una volta in più il mio focus come allenatore è chi sono i ragazzi che vogliono andare con me a luttare per questo club e a luttare per questi tifosi e dentro di questa dinamica Nicolò non fa parte del progetto Napoli.